Cane stitico! Noi speriamo che qualcuno ci trombi! Non te preoccupi, besturo io! Io veramente, mi faccio inculare! Eccolo! Come dici? Me l'ho infilata fino alle palle? Minchia! Attiva anche tu una team card e potrai far parte del mucchio dei finocchi e delle troie di Saranno Famosi! Ma la vasellina ce l'ha! Ehm, no, pazienza! Ehm, no, pazienza!